Ciao a tutti amici di Telepace, un nuovo spazio dedicato alla nostra intervista, alle nostre chiacchierate. Oggi è un ospite davvero da conoscere. Si chiama Anna, Anna Bertini. Grazie perché sei qui e grazie perché ridi, per la tua giovinezza. Lei oggi ci racconta di una ragazza di 25 anni che studia e lavora insieme e che ha delle idee pazzesche, interessanti, semplici anche, ma interessanti. Allora, partiamo dall'inizio. Ne basta uno, che cos'è? Allora, ne basta uno è una... adesso siamo ancora iniziativa. Abbiamo in programma di diventare associazione. Quello che facciamo è organizzare passeggiate di scoperta della Lessinia, però pulendo i sentieri. Quindi abbiamo le pagine social e da lì chiamiamo la gente che vuole unirsi. Ci troviamo in Lessinia, all'inizio della passeggiata facciamo divisione sacchi, pinze, guanti. E poi facciamo tutto il giro ripulendo il sentiero con pranzo al sacco, quindi pranziamo sui prati. Sì, è bellissimo. Senti, ma come nasce questa iniziativa che diventerà associazione? Allora, è nata durante la quarantena perché ho avuto la fortuna di passarla a casa in Lessinia con le mie sorelle. In quel periodo stavo studiando, avevo un esame per la triennale di comunicazione del territorio. Allora, visto che intorno avevo solo Lessinia, ho detto facciamola solo a Lessinia. E mi sono accorta di quante cose io non sapessi e di quanto bella fosse la Lessinia. Del tipo? Del tipo che ho visto quanto più ampia era rispetto alla zona che conoscevo io, che ho la casa da quando sono piccola. e quante più enti ci fossero, di cui non sapevo niente. Quando hanno riaperto, sono uscita per una passeggiata. E ho visto delle bottiglie di lattine di birra. Allora ho detto, vabbè dai, torno indietro, prendo un sacchetto e le tiro su. Sono tornata e ho urlato alle mie sorelle dal piano di sopra e di portarmi su dei sacchetti. E mia sorella mi ha urlato quanti ne vuoi e io le ho urlato e ne basta uno. Urlato mamma. Alla fine sono dovuta tornare indietro tre volte e ho ripito cinque sacchi di collineri. Perché la lattina era solo l'inizio, poi giù c'era davvero una discarica. Ma quindi davvero, perché io che amo la montagna e che vado a camminare in montagna, a me sembra impossibile che ci sia gente, anche perché a me hanno insegnato, come sicuramente tu più di me, che quello che ci si porta dietro si riporta a valle e si butta a valle. Quindi lasciare il rifiuto in montagna è già brutto in pianura, ma in montagna è ancora più brutto. Assolutamente, però è, per esempio, allora ci sono due cose che mi vengono in mente. La prima è che una volta abbiamo pulito un tratto di strada dove passavano le macchine e sopra cerro, sotto cerro, e sono ripassata tre giorni dopo e c'erano già bottiglie, c'erano già mozziconi. Io sono passata in macchina ma si vedevano, quindi erano proprio tanti. Perché il buttare fuori dal finestrino si fa ancora, ma lo vedo anche con le macchine davanti a me in coda. Il mozziconi di sigarette va sempre fuori. L'altra cosa è che una volta abbiamo pulito un sentiero che passava in mezzo a un vaio tra due montagne e c'erano davvero troppi rifiuti. Al che abbiamo iniziato a informarci per capire come mai sembrava una discarica e ci hanno risposto gente del posto che i vai erano e sono ancora considerati come discarica perché lì, in quello spazio stretto umido tra le montagne, non puoi coltivare, non puoi costruire, non puoi mandare al pascolo. Per cui lontano da tutti veniva buttata. Ma abbiamo trovato testate di letti, lavatrici, pezzi di trattore. Quindi lì avete bisogno poi di un aiuto esterno a voi come futura associazione. Ma chi è che partecipa a queste passeggiate? Allora, all'inizio partecipavano davvero di tutte le età. Poi andando avanti, dal momento che nel team siamo sei ragazze tutte della mia età, sui 25-26 anni, il target si è un po' abbassato, quindi siamo tutti coetanei. Poi è bello, ogni tanto vengono delle famiglie, quindi i bambini diventano le nostre mascotte. È bellissimo. Siamo sempre una trentina come media ed è bello perché si fanno tantissime conoscenze. Si ritrovano persone che non vedevi da anni, scopri un sacco di cose. Alla fine, essendo tutti coetanei, si sta molto più tranquilli. Poi il momento del pranzo al sacco sul prato è sempre bellissimo. Spiegami come organizzate, se io volessi partecipare, ad esempio. Allora, siamo attivi su tutti i social, particolarmente attivi su Instagram. Noi carichiamo la locandina, abbiamo la locandina del calendario. Poi qualche giorno prima della data pubblichiamo il giro, quindi chilometri, slivello. Pensate anche al giro, è proprio una passeggiata in montagna, a tutti gli effetti. Noi andiamo su, giorni prima, settimana prima, a vedere com'è. Sia per vedere quantità di rifiuti e capire quanti sacchi portare, sia per capire se ci sono frane e cose così. Andiamo su, controlliamo, poi facciamo uscire la locandina che ha tutto il giro, chilometri, slivello, orari, punto di ritrovo. E poi ci si trova su, alle volte facciamo le macchine quando magari abbiamo spazio, chiediamo chi vuole salire, perché tanti partono proprio da Verona. E basta, ci si trova là. Prima di partire tutti in cerchio, insomma ci conosciamo, noi spieghiamo cos'è, ne basta uno, anche se tutti lo sanno alla fine, quelli che vengono. Facciamo divisione ai sacchi. Quindi i sacchi li portate voi? Li portiamo noi, quelli grandi, finali. Poi chiediamo a tutti di portare delle shopper, quelle del supermercato, perché appunto essendo iniziativa non abbiamo accesso alla maggior parte dei bandi. Abbiamo messo in atto qualche metodo di autofinanziamento. Ci arrangiamo, adesso volevamo fare dei gadget con la plastica riciclata. Ci stiamo pensando. Bellissima questa iniziativa. Bisogna partecipare sicuramente, allora su Instagram ne basta uno e le passeggiate, più che altro è bello perché unite l'utile e il dilettevole. E unite la passeggiata in montagna, che dal mio punto di vista è una tra le cose più belle da fare. E solo in Lessinia per ora? Esatto, sì sì. Facciamo Lessinia ogni tanto a Valpolicella in base al meteo soprattutto, se su piove ci spostiamo. Da questo progetto, da questa iniziativa, poi ne sono nate delle altre. Perché nascono dal tuo cuore, dalla tua sensibilità un po', mi sembra di capire. Sì, sì. Cioè che cosa è successo? Allora, un anno fa praticamente c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna. Il giorno dopo, alla mattina ho preso BlaBlaCar, quindi sono salita su con sconosciuti. Ma perché hai pensato di andare giù in Emilia? Ma perché, allora, non mi ricordo quale disastro fosse successo poco prima. Se la prima o la seconda. Però avevo visto alla TV, non mi ricordo dove era successo, ma c'era stato un disastro. E avevo visto questi ragazzi che spalavano. Gli angeli del fango. Esatto, ma non lì in Emilia, era un'altra cosa, ma non mi ricordo dove. Allora ho detto, cavolo, cioè loro erano lì del posto. Io, una magistrale, la sto facendo a Reggio Emilia, quindi comunque ero giù in Emilia. In quel momento era a Verona e ho detto, basta, vado ad aiutare. Poi da lì vado in università, prendo il treno e vado a Reggio. E quindi ho preso la macchina, cioè ho preso la macchina, in realtà sono salita in macchina con sconosciuti. E sono scesa a Forlì, da lì mi ha mollato al casello, non c'erano autobus perché era tutto sott'acqua. A piedi sono arrivata in questo quartiere che si chiama quartiere dei Romiti, a Forlì. Alla prima casa mi sono fermata e ho chiesto informazioni per il palazzetto. Perché avevo letto su internet che al palazzetto c'era la possibilità per i volontari di avere stivali, esatto. E loro mi hanno indicato dove era il palazzetto, mi hanno detto però che avrebbe aperto ore dopo. Allora ho detto, vado, mi fermo qui, c'è bisogno. Allora lì mi sono fermata, sono stata con quella famiglia quella giornata. Poi ho conosciuto studentesse che mi hanno offerto di dormire da loro, ho dormito da loro sul divano e il giorno dopo ero di nuovo lì in mezzo al fango. Ed è una cosa che mi ha particolarmente segnata al che ho detto c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di scendere. Che cosa hai visto? Allora lì ho visto la... Allora non ho visto disperazione perché, infatti essere umano è una potenza, perché avevano questa famiglia che ho conosciuto, aveva la casa completamente sott'acqua, sotto fango. Noi passavamo proprio tutta la giornata a prendere fango, mettere in acqua a riola e portare fuori. Lì hanno perso tutto, tutto. Però hanno tirato fuori questa forza, che sono più loro che hanno dato a me che io a loro. E hanno tirato fuori questa forza incredibile. C'era la figlia, tra l'altro sono scesa a Forlì tre giorni fa a vedere il suo spettacolo di fine anno, che è una cantante, una sperante cantante bravissima. Lei cantava nel garage con le sue amiche, con le sue compagne, e quindi c'era proprio questo clima di, non di disperazione, rassegnazione. Ma di lavorare insieme, di rifare, di ricominciare. Sì, esatto, di ricominciare. Ovviamente loro stanchi e... Insomma questa cosa qua ti ha colpito molto. Sì, assolutamente. E quindi da questo, da questa immagine che tu hai avuto, hai pensato di... Di chiamare gente. E allora il canale che avevo per chiamare più gente possibile era Nebasta1, che ha i suoi mille passa follower su Instagram. E ho pubblicato una storia e ho parlato con le mie amiche del gruppo di Nebasta1. Abbiamo creato questo gruppo WhatsApp, condiviso il link su Instagram, per tutti quei veronesi che volevano scendere insieme a noi. La cosa bellissima è stata che per tutto il mese, insomma, di lavori nel fango, noi siamo scese tre, quattro volte, ma in tutto il mese il gruppo è andato avanti e si mettevano d'accordo. Ormai ne basta uno, diciamo, che l'aveva fatto partire, ma poi erano proprio tutti i veronesi ragazzi che... Che si sono presi. Esatto. Organizzavano le macchine tra sconosciuti, si scendeva giù e si andava giornate intere giù nel fango. Bellissimo anche quello. La cosa bella è che tu me lo racconti con questi occhi azzurri, spaziali e con tanta emozione. E secondo me il fatto che lo stiamo raccontando a un bel po' di persone con questo entusiasmo mi fa pensare che sia veramente una cosa che nasce dal cuore, ma che racconta di giovani che sono veramente il massimo, che sono il nostro futuro, ma che sono veramente dentro il mondo e che lo sanno gestire e giocare nella maniera migliore. Dobbiamo dire che questo progetto poi per fortuna si è fermato perché l'emergenza non c'è più, anche se sicuramente là non vivono ancora molto bene, stanno aspettando ancora gli aiuti, ma questo è un altro argomento. Invece tu poi hai pensato di fare un'altra cosa, perché il periodo del Covid probabilmente è stato per te fonte di ispirazione costante e continua. E Anna ha pensato, guardando le necessità, guardando fuori dalla finestra, a qualcos'altro. Raccontaci. Allora, come dici, proprio guardando fuori dalla finestra, diciamo che l'idea è partita tutta da mia mamma e mia sorella, che durante il Covid erano a Verona. Perché tu eri in Lessinia. Esatto, a pensare ne basta uno. Erano a Verona e dal momento che gli anziani non potevano uscire, era rischioso, si mettevano fuori dal poggiolo e si facevano urlare la lista della spesa dai nostri condomini. E in questo modo noi ci siamo accorti di persone nel nostro condominio, anziane e sole, che avevano bisogno di aiuto tecnologico, ma non solo, e gli ho detto, ma se in un condominio ce ne sono tre, figuriamoci in Borgo Trento, che insomma è popolazione tanto anziana. Ho portato avanti per anni questo pensiero di fare qualcosa, però non avevo il tempo, pensavo di non avere le risorse. Alla fine, insomma, quest'idea spingeva troppo, e quindi io non c'era già via tenerla. Ne ho parlato a casa e mia mamma mi ha detto va a parlare con la Nicoletta, che è l'edicolante del quartiere. Io sono andata da lei il giorno stesso. e ho trovato la conferma che ci fosse questo bisogno. Tanti anziani che avevano proprio bisogno di aiuto tecnologico per capire... Cioè non stiamo parlando di portare la spesa, ma di cose diverse, tipo... Sì, tipo speed, ritiro di esami, la prenotazione di esami, esami medici, capire come funziona la bolletta cellulare. Ho trovato la conferma che, insomma, il bisogno in quartiere c'era e l'entusiasmo, perché in due giorni abbiamo trovato un tavolo, una sedia, mi ha liberato uno spazio dell'edicola. Siamo partite e io che pensavo di non avere le risorse, in realtà non servivano risorse. Io avevo il mio computer e stavo lì. e arrivavano questi anziani che avevano un problema gigantesco. Una signora è arrivata a mi dar il cellulare e mi fa non funziona da giorni, da una settimana, suona e basta. Allora io guardo dicendo, ero utto così, aveva la luminosità al minimo. Lei non ci vedeva ed era una settimana isolata dal mondo. E lì davvero ci vuole pochissimo per aiutare, perché noi giovani in tecnologia... Direi che ci siamo. Sì, ci siamo, esatto. E quindi lì ho visto che mi bastava davvero pochissimo. Ho dato due mattine della mia settimana, adesso uno perché sto facendo quello studio tirocinio. Però sono lì, arrivano problemi più svariati. Allora io ti domando, ma a casa tua cosa dicono di... Si chiama questa iniziativa, si chiama, diciamolo, nipote in affitto. Perché oramai voi, tu e anche le tue sorelle siete diventate le nipoti delle varie persone del quartiere, del condominio, giusto? Esatto. Che cosa pensa di tutte queste ideone, tua mamma, la tua famiglia? Beh, allora, le mie sorelle sono come me e sono soprattutto le colonne portanti perché quando ho un'idea io subito ne parlo a casa. Quante sorelle hai? Tre. Siamo quattro sorelle. Tutte creative ma in modo diverso. Per cui magari anche con... Ne basta uno. Io ho avuto l'idea, ne ho parlato subito con mia sorella Chiara e lei mi ha detto la sua per capire come organizzarla bene, cosa altro aggiungere, che valore aggiunto dare. Ed è bellissimo perché è come un team. Poi parto per le mie idee, le tiro su, però sono loro che comunque mi caricano. E tua mamma cosa dice? Ah, lei è veloce. No, lei è molto veloce. Poi devo dire che io sono così perché mia mamma è così. È di famiglia, insomma. È un'impronta della famiglia. La cosa davvero bella è questa necessità di fare bene e di fare bene il bene. Lo dicono tutti, lo dice il Papa molto spesso quando parla con i giovani, e tu lo rendi concreto. Cosa studi? Perché è interessante anche, ve la faccio conoscere perché io la sto conoscendo insieme a voi, è interessante anche la sua scelta degli studi che sta facendo. Allora, io ho una triennale in comunicazione e pubblicità. Dopo averla presa ho fatto un anno di pausa per capire bene cosa volessi fare e ho capito che avevo competenze troppo limitate e volevo potermi arrangiare. Per cui adesso sto facendo una magistrale in comunicazione e gestione d'impresa sotto il ramo di economia e ho fatto un test per cambiare proprio la comunicazione e economia ma ora ho le competenze per avere libertà di far partire qualcosa di strutturato. Ora sono partite tutte iniziative finché sono così giovane. Tra amici e amiche. Ma da grande che cosa vuoi diventare? Allora, mi piacerebbe far partire qualcosa di mio perché il lavoro da dipendente è un po' cozza con la mia. La tua libertà, bisogno di libertà. Mi piacerebbe appunto far partire qualcosa di mio. Non so ancora cosa perché sono in quegli anni in cui assorbo tanto. Quindi anche lavorando in partita IVA posso fare tanti lavori diversi tutti in comunicazione e amministrazione per cui sto imparando, assorbendo da tantissimi ambiti perché appunto non sono solo in un settore e poi vediamo. Ma fortunatamente mi è andata via l'ansia di non sapere già cosa voglio fare. La vedo invece come una risorsa, insomma, non avere già un percorso dritto. Una cosa che mi colpisce di te e di quello che ci stai raccontando è che sai molto bene che cosa vuoi essere, mi sembra di capire. Non dove vuoi andare ma che cosa vuoi essere. Autonoma è una parola che è bellissima sentirla dire da una un po' più grande, un po' tanto più grande di te. Ma molto cosciente e molto attenta poi a quelle che sono le necessità. Cioè guardi il mondo non solo con i tuoi occhi ma con gli occhi degli altri e questo ti porta a far nascere, ne basta uno piuttosto che nipote in affitto che mi piace tantissimo tra l'altro. Va bene, ascolta ma tutto questo, dicevamo, tutti questi progetti nascono dalla tua creatività, nascono dalla tua famiglia e nascono dal tuo cuore. Perché nel tuo cuore il fatto di mettersi in aiuto, se non dell'ambiente piuttosto che della persona, perché? Perché ti vengono queste idee, secondo te? Ma perché diciamo che... È per essere buoni? No, non per essere... Allora, non è una cosa che faccio per me, nel senso che... Allora, di educazione non penso sia di natura, ma vedo i bisogni degli altri e poi potrei ignorarli per raggiungere invece i miei obiettivi, ma preferisco portare il cambiamento, se posso, perché poi riconosco i miei limiti. Però se posso non mi piace lasciare le cose così come sono, se c'è bisogno di risolvere una cosa e io so che ho le competenze per farlo o per trovare qualcuno che lo faccia, insomma, mi viene da farlo. Poi devo dire che vi venne una famiglia allargata. Già da piccola vedevo gli altri come... Persone di cui prendersi cura, immagino. Esatto, esatto, sì, sì. Cioè, poi, come vedo io il mondo, so che le mie sorelle lo vedono in modo completamente diverso e questo è oggetto proprio di risate, da piccole di litigate. Però adesso è molto interessante, per cui, cioè, vedendo che le mie sorelle sono tante diverse da me, hanno bisogni diversi da me, che magari cose che a me vengono spontanee, loro hanno più bisogno, mi viene... Naturale. Naturale, sì, ma non è perché voglio... Cioè, non è per la mia coscienza così. È la cosa che a me piace di più, aiutare gli altri, organizzare cose. È proprio nel tuo essere. Grazie mille per quello che ci hai raccontato. Grazie per essere così, perché è stato bello chiacchierare insieme a te. Davvero, sì, sì, sì. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Chissà, se qualcuno ha bisogno della nipote in affitto, eccola qui, è in Borgo Trento, per i veronesi, ma comunque su Instagram la trovate anche per quanto riguarda le passeggiate in Lessigna. Grazie mille, grazie ancora. Grazie. Ciao a tutti.